La casa editrice nasce 40 anni fa a Palermo, noi ci occupiamo e nasciamo come casa editrice tecnica, quindi abbiamo creato il libro tecnico con il software indirizzato per ingegneri, architetti, geometri, geotecnici e geologi e siamo leader in Italia in questo settore. Poi negli anni ci siamo evoluti e abbiamo creato altri due collane, una principalmente dedicata a Palermo e alla Sicilia e l'altra è dedicata adesso al mondo del web, tutto quello che riguarda il marketing, il Facebook e tutto quello che è correlato a questo mondo. Grazie.